il successo lo si vive in solitudine una volta arrivato si resta soli non importa che tu abbia come più di più o come si chiami miliardi di virus del canale e milioni di visualizzazioni a video e milioni di iscritti il successo ti lascia solo il successo fa sì che le persone più invidiose e che hanno meno successo di te ti attacchino anche se tu non guadagni nulla dal tuo canale di youtube perché loro come è successo per quella havaiana di cui vi ho parlato due giorni fa hanno molto meno di te decine di visualizzazioni o nessuna per dei video caricati in un canale che ha più di dieci anni il successo lo si vive in solitudine sono poche le persone che vengono a celebrarlo con te sono poche le persone che vorranno condividere con gli altri il tuo successo sono poche le persone che condivideranno i tuoi video il successo lo si vive in solitudine anche se non è economico anche se si tratta solo di aver fatto 600 mila views del canale in sei anni e mezzo ma è successo isola ti lascia solo e forse anche il compreso per fortuna che io ho voi che mi seguite e che non mi lascerete mai solo solo vi chiedo di condividere i miei video con tutte e tutti i vostri contatti ed amici per potermi permettere di avere le monetizzazioni dire avere entrate e allora vi auguro una buona pasqua a tutti e tutti voi il successo oggi volevo fare un video e la filmatrice è rotta è andato perso il video da due giorni che volevo firmarvi il successo è successo quando arriva senza denaro e io mi devo fare una filmatrice capito però va bene il successo cari amiche ed amici qui il vostro sentenziale auguri di buona pasqua ma il successo è questo ti lascia solo e io adesso vi lascio ciao a domani